Tra gli amministratori pubblici lei è stato il primo a puntare sul BES, quali sono i vantaggi per il governo locale? Significa misurare ogni anno la qualità della crescita, che è la svera sfida dell'Italia, ma è la sfida per le città, soprattutto per le città come la mia, quella che ho l'onore di poter guidare, che fa della qualità della vita un suo modo di essere. È un modo per misurare non solo il prodotto interno lordo, la crescita economica, ma anche quanto produce in termini di qualità la mobilità alternativa, penso alla nostra bicipolitana, quanto produce la cultura, penso all'aumento dell'80% che abbiamo avuto degli abbonamenti a teatro. e quindi significa avere una visione complessiva diversa dello sviluppo locale. Il BES è fondamentale perché grazie all'Istat abbiamo un indicatore autorevole che ci dirà ogni anno se stiamo andando nella direzione giusta o nella direzione sbagliata. Grazie.